Oggi siamo a Manfredonia con Anna Falch che è arrivata per l'inaugurazione di il nuovo locale Brunelleschi, è la tua prima volta a Manfredonia? No, ci ero già stata in passato, però non mi ricordo in che occasione, però sono contenta di essere tornata, sono stata accolta con tantissimo affetto, mi piace sempre promuovere nuove avventure made in Italy, poi sapete ormai io sto sempre in Puglia per cui sono proprio di casa e da domani ricomincio la mia avventura con Anna e i suoi fornelli e quindi avrò modo di passare magari anche nuovamente a Manfredonia. Ecco sì, tu hai questa trasmissione tutta tua su Telenorba, sulla cucina, quindi qual è il tuo rapporto con la cucina e in particolare la pasticceria visto che questo locale è famoso soprattutto per i suoi dolci? Sì, a me piace molto cucinare, chiaramente lo faccio anche con molta passione, diciamo non sono bravissima a fare dolci, quindi quale migliore occasione insomma di assaggiarne qualcuno e chiedere poi la ricetta. Ok, un saluto per i lettori di Stato Quotidiano. Ciao a tutti e continuate a seguirci. Ciao. Grazie.